Avviso pubblico tramite il suo presidente Roberto Montà, oggi a San Giusto Canavese ha fatto una proposta molto concreta per l'utilizzo futuro di questo bene sequestrato alla mafia. Ma questo bene tra le finalità sociali credo potrebbe essere utilmente utilizzato per provare a essere un luogo di formazione degli amministratori, del personale, delle strutture, dei nostri enti locali, ma anche delle varie classi dirigenti negli ambiti economici e sociali. Noi abbiamo bisogno che ci sia maggior consapevolezza da parte di chi ha delle responsabilità istituzionali e in ambito economico e sociale. Questo luogo potrebbe essere quel simbolo di riscossa per cui al riutilizzo per finalità sociali ci sarebbe anche la dimensione educativa. Noi dobbiamo far crescere gli anticorpi delle comunità e dei territori, questo potrebbe essere il luogo in cui provare ad innestarli.